Cari amici dei gittanti gioiosi vicini e lontani, oggi è il giorno 15 febbraio, sono le 12.30 e vi facciamo vedere il panorama dalla vetta del Monte Pora, dove ci sono parecchie persone, tutte arrivate o con le ciaspole o con le pelle. Cominciamo con la presolana, poi giriamo, spero che voi vediate, la skyline bellissima, oggi è giorno di carnevale, ci sono degli allegri ragazzi che stanno festeggiando e adesso vi facciamo vedere anche il lago di Zeo, ecco il lago di Zeo inondato di sole, per cui l'ideale sarebbe vela e sci. Questo è il famoso traliccio, adesso andiamo un po' in là, vediamo, in lontananza voi potete vedere il rifugio Magnolini che ora vi inquadro. La vedete là in fondo il rifugio Magnolini? Poi potete vedere la baita del Termen che si intravede, cioè no, è quella piccolina, la baita del Termen e poi ritorniamo al traliccio e al nostro Francesco che ci sta aspettando lì, che sta togliendo le pelli. Un vero scandalo il fatto che abbiano chiuso gli impianti di risalita ieri sera alle ore 18.